Numero 5. Un saggio di ball handling e tiro di Florenzia Natalia Chagas. Numero 4. Alessandra Orsili infiamma il derby toscano con una giocata pirotecnica. Numero 3. Lo spettacolare assist da playground di Sara Bocchetti. Numero 2. Il tiro in corsa da tre punti allo scadere di Giorgia Sottana. Numero 1. Nella città della Dotta il buzzer beater di Francesca Dotto. Numero 5. Un saggio di Giorgia Sottana.